Abbiamo le nove province siciliane che rischiano di andare in default a causa del prelievo forzoso che viene imposto dal governo centrale. Quindi praticamente sono dei fondi che vengono sottratti ai bilanci provinciali, vengono sottratti dal governo centrale. Il paradosso è che in tutto il resto d'Italia, quindi noi non facciamo parte dell'Italia, vengono restituiti sotto forma di contributo, in Sicilia vengono sottratti e non restituiti mai.